e di quanto tolto aspetta non alzare le mani non alzare le mani non alzare le mani almeno sposta tre macchine qua non possono stare qua non possono stare ma perchè fai così ma perchè fai così perchè fai così ma vatti mi ci trova andata che mi ha già fatto la foccia vatti c'ho cazzo colato ma mi ci trova andata vatti 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 vatti